Se ti fai presentare da Gianluigi recuperati, tendenzialmente o non viene in ritardo, o non ha letto il libro. Era un rischio calcolato comunque. Arriverà, quando arriva qualcosa succederà, quindi faccio tipo marzullianamente, mi farò delle domande e mi autorisponderò. Intanto grazie per essere qui. Questa sarebbe l'occasione per presentare... ho quanto tempo, come sta? È passato di tempo, ero grasso. Questa sarebbe l'occasione per presentare questo libro, Velocità di fuga, che ha pubblicato in Audi. E qui c'è quel santuomo di questa casa editrice che ancora mi dà la possibilità di scrivere delle cose e lo ringrazio infinitamente. E' un libro... facciamo finta che Gianluigi mi abbia fatto la domanda che mi avrebbe fatto quando anch'io presento i libri che non ho letto. Tipo, ma dimmi un po' di cosa parla questo libro, quindi alla fine te la puoi fare da solo. Ed è un... Secondo me c'era un bisogno che io non so se sono riuscito a saturare, ma mi auguro che sia un bisogno che percepisci. C'erano in tanti che il bisogno di cercare di avere delle narrazioni generali rispetto al tempo in cui stiamo vivendo. Con tutte le difficoltà del caso, nel senso che quando provi a fare una cosa del genere i riferimenti e i confronti sono sempre di una presunzione mostruosa. Quindi hai un blocco nel dire che stai cercando di fare una cosa come quella che ha fatto... Faccio un esempio, non so... Agamben in che cos'è il contemporaneo, o Calvino nelle lezioni americane. Per cui uno dice ma chi sei tu per fare una cosa del genere? Ed è vero. Tuttavia, secondo me è uno... Eccolo! Ho provato a insultarti, ma... Bene, grazie. E... Che facciamo? Ricominciamo da capo? Ok, allora, mentre lui respira io continuo. C'è la settimana della moda per cui i recuperati è un evento che si ha a Torino e non si è rimasto a Milano, no? Per me, giustamente. E questo strumentario ha a che fare con l'idea che c'è la possibilità... Ah, devo dire una cosa importante prima che mi dimentico. Questo ci tengo molto, anche perché prima ero con la direttrice. Oggi è uscito un trafiletto sul Corriere della Sera di Torino e per un... Non so se qualcuno deve scrivere sui giornali o ha mai scritto sui giornali. Comunque, i giornali non pubblicano esattamente quello che scrivi o dici. Questo è un grande problema. Io avevo detto che il circolo dei lettori fa delle cose meravigliose, ma non è abbastanza aiutato dal sistema Torino per farle come si deve. E invece è uscita la notizia che il circolo dei lettori fa delle cose belle, ma non fa delle cose belle. C'è scritto che fa delle presentazioncine. Tipo la mia, tra l'altro. Ma io l'ho trovato una cosa geniale, posso dire, che tu facessi... Era un arachiri. Chiedo scusa, non è colpa mia, ma chiedo scusa allo stesso. Ci tenevo a dire questa cosa perché sono tipo 5-6 anni che mi fanno fare qualsiasi cosa. Era veramente un atto di volgarità mostruosa che neanch'io sarei riuscito a fare. Però ogni tanto capita e chiedo perdono. Ci tengo molto questa cosa, a parte le battute. Dico solo questa cosa prima di lasciare la parola a Gianluigi. Quindi in realtà il libro nasce come strumento di provare a raccontare cosa sta succedendo adesso con una tipica metodologia però filosofica. Cioè non tanto cosa c'è, ma cosa ci dovrebbe essere, potrebbe essere. Quindi cercando di sviluppare le modalità della contemporaneità. Non come le cose stanno, ma come le cose dovrebbero o potrebbero stare in relazione a quelle che sono delle grandi macro-categorie che io credo raccontino il sistema morale, il sistema politico, il sistema normativo, il sistema culturale, dentro il quale dovremmo provare a orientare le nostre azioni in un momento che secondo me è particolarmente pericoloso, al di là delle battute. Cioè è abbastanza ovvio che stiamo... Io non ho una passione per le filosofie ottimiste neanche quando l'ottimismo uno se lo poteva permettere. Oggi sicuramente non ce lo si può permettere e quindi bisogna correre ai ripari. È un modo per correre ai ripari quando fai lo scrittore, il filosofo, l'artista, quello che è, ora non importa, è correre ai ripari con la propria metodologia che è quella di dire c'è un problema, come le cose potrebbero andare, come le cose dovrebbero andare. Cioè cercare in qualche modo di orientare una strada. È come sempre più... Come sempre, come sempre nel mio caso, che non vuol dire niente, è più una rete. Nel senso io la tiro sperando che poi qualcun altro si lasci acchiappare, mi dia una mano, cioè è uno strumento a tutti gli effetti. È fatto da sei... È quella ragione per cui il paragone è ovviamente impari e improprio, però sono sei parole per decifrare la contemporaneità, col lusso che io sono riuscito a scrivere anche la sesta. Mi sono morto prima, diciamo. Vabbè, questo diciamo ci sta. Io, scusate, eccomi qua, sono molto contento innanzitutto di aver letto questo libro che tra l'altro sta... Ho letto, è pieno di... Innanzitutto di aver letto un libro che sta in una collana che è veramente bellissima e che spesso le compro così, non capisco, non so mai quale arriva prima, cioè nel senso non ricevo degli uffici stampa, tanto per essere chiaro. No, 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 ma non perché, perché non scrivo più tanto sui giornali, per cui giustamente non lo ricevo. E me li compro, cioè sono dei libri che compro spesso, trovo sempre illuminanti le vele, è veramente una bellissima collana ed è il secondo libro tuo, o il terzo, no, il secondo. E' talmente una bella collana che sarebbe bello che tutte le persone di cui ho una passione intellettuale mi piacerebbe che scrivessero una veda. E quindi questo, non so, questo volevo dirlo per prima cosa. Seconda cosa è questo in particolare, poi partiamo subito con una domanda secca così almeno. E' un libro, in realtà è una passeggiata, c'è un bellissimo libro di Umberto Eco che si chiama Sei passeggi... non so se sei, comunque passeggiate nei boschi narrativi. E sono delle passeggiate anche queste. Parlo di passeggiate non a caso, perché Toro evidentemente è uno dei grandi luminari, questo filosofo che evidentemente aveva a cuore in qualche modo l'idea di passeggiare nella radura. La radura è un'altra terminologia filosofica abbastanza importante di un altro importantissimo nome della filosofia del XX secolo, Heidegger. E quindi quello che io mi chiedo, queste parole, poi insomma ti dico anche che ho trovato particolarmente intrigante. Penso che i libri veramente ormai che mi stimolano sono quelli che mi fanno venire delle idee per scrivere dei possibili indici di libri che non scriverò mai. E questo mi ha fatto venire in mente, perché tu citi talmente tante parole che sono... è difficile trovare filosofi che parlano di cose prossime alla vita reale. Adesso un po' di più di un tempo, diciamo, è più facile di questi... negli ultimi 10-15 anni, però ancora è abbastanza difficile. e allora ho iniziato a fare un elenco di... a me piace molto la musica. Penso che altre parole su cui si potrebbe lavorare molto sono i tempi agogici, cioè i tempi che i compositori danno che mettono sugli spartiti, sulle partiture per indicare quello che dovrebbe essere il tempo. E uno dei miei hobby è... ho un file word in cui segno tutti i tempi che ci sono sulle partiture nella musica dall'inizio della storia della musica. Ogni tanto ci sono soprattutto i compositori da una certa epoca e poi ho iniziato a scrivere delle misure, delle indicazioni veramente strane. E questo, in effetti, prendere delle parole, iniziare ad esploderle, a esplorarle, appunto io lo faccio con questi tempi legati al tempo musicale, però è veramente un esercizio intellettuale che consiglio di fare a tutti. Credo che una delle cose belle oggi di leggere un libro è reagire scrivendone uno nella propria testa. Ed è esattamente quello che ho fatto con alcune di queste parole che sono più vicine alla mia sensibilità. Per esempio, alcune di queste parole le ho trovate un po' troppo generiche, tipo ecologia, anche se è evidente che è il motivo per cui tu ne parli. Altre, invece, le ho trovate molto interessanti, in particolare off-life. Perché off-life? Perché io ho fatto senza saperlo, senza leggerlo, lui non mi aveva mandato il libro in Word, quindi non avevo, sapevo di questa sua riflessione sull'idea di off-life. Cioè, in qualche modo, vabbè, adesso la semplifico, ma diciamo di tagliare, tagliare dai social soprattutto. E io quest'estate, a un certo punto, mi sono riconnesso da Instagram e praticamente da Facebook. Adesso ho ripreso un pochino, purtroppo perché mi sono reso conto che è impossibile lavorare senza. Quindi, ed è questa una delle più grandi, no, adesso per parlare delle grandi tragedie, una piccola tragedia della nostra contemporaneità che è una dipendenza, non tanto in senso, diciamo, come la droga o come l'alcol, è una dipendenza obbligata che di qui nessuna è responsabile. Allora, partirei da off-life. Perché off-life è anche il contrario di on-life, che è un altro concetto che mi piacerebbe che tu raccontassi. Perché, quindi, partirei a ritroso. Off-life è l'ultimo di questi sei capitoli, l'ultima di queste sei parole. Naturalmente, ti chiedo innanzitutto di raccontarlo, questa idea di off-life, e poi però di chiederti, ti chiedo perché tu non la pratichi. Visto che io l'ho praticata ultimamente e mi ha creato dei problemi nel lavoro, nel senso che ho fatto una cosa all'atrienale, non c'era nessuno. Cioè, questo mi capitava anche quando ce l'avevo Instagram, a dire il vero. Comunque, devo dirti che però sono stato molto meglio. E allora ho detto, cioè, Leonardo ha ragione, però poi, insomma, mi piacerebbe che come filosofo greco mettessi in pratica. Io, grazie Luigi. Io, da dove inizio? Cioè, Off-life, tra l'altro, era uno dei titoli iniziali di cui avevo parlato con Andrea Bosco per questo libro. un po' perché credo che a un certo punto si è diffusa questa idea dell'all life che è una parola che è diventata celebre grazie a Luciano Floridi, ma anche più vecchia di Floridi, con cui si parla, diciamo così, di quella che è la quarta grande rivoluzione entro il quale quello che noi chiamiamo il digitale non viene più inteso come una tecnologia, cioè qualcosa che puoi avere o non avere, ma come una delle grandi trasformazioni attraverso la quale, per mezzo della quale l'essere umano diventa così com'è, l'agricoltura, per farvi tanto un esempio, non è che uno dice la posso staccare così, è un trasformativo, è così, ha l'elettricità, e queste tecnologie poi creino delle atmosfere, atmosfere entro la quale l'analogia è sempre quella con la biosfera, quindi l'idea dell'infosfera, voi non entrate o uscite da internet, se no voi siete all'interno di internet e in qualche modo c'è un collasso tra quella che una volta chiamavamo realtà analogica e quella che oggi chiamiamo realtà digitale, cioè c'è il reale punto e basta, una cosa non è più vera se accade su TikTok, tac, come direbbe qualcuno oggi, e non è più falsa se accade da un'altra parte, cioè sono livelli di articolazione della realtà che in qualche modo tra l'altro la filosofia aveva previsto, nel senso che per chi si occupa di quelle cose un po' vetuste tipo l'ontologia, eccetera, non è che c'era una differenza sostanziale tra gli oggetti materiali, gli oggetti sociali, gli oggetti fisici, erano livelli di realtà e così siamo tuttora, però la critica principale che io muovo è che siano strumenti di tipo neutrale, cioè le tecnologie avvolgenti sono cose che creano bisogni che prima non avevate, no? E li rendono bisogni sostanziali, esempio, noi oggi abbiamo il bisogno di sapere quando qualcuno ha letto un nostro messaggio, ed è un bisogno, è un bisogno reale, cioè la doppia spunta blu di WhatsApp non è solo una tecnologia, è un trasformativo di un predicato basilare della specie umana, la capacità di aspettare, che è la ragione per cui sono concatenate queste parole, è come se fossero un unico labirinto, cioè noi siamo, abbiamo atteso per 200 mila anni e abbiamo smesso di attendere negli ultimi 15 praticamente, sappiamo quando pioverà, sappiamo quando arriverà il nostro cibo, sappiamo quando vengono letti i nostri messaggi, sappiamo quando viene recapitata l'email, sappiamo un sacco di cose che creano anche dei cortocircuiti rispetto a quella che è la teoria dell'azione proprio nella filosofia occidentale, cioè qualcosa in cui l'input iniziale non è uguale all'output finale, cioè tu non sai mai esattamente, almeno non dovresti mai sapere quale azione uguale e contraria corrisponde all'azione che hai fatto nel mondo, se te la sai già prima la possibilità di cambiare sostanzialmente si azzera, perché fai le cose, non so se è chiaro, sì, perché fai le cose soltanto sapendo che in quel momento, in quel secondo, in quel minuto arriverà quella cosa che era già prevista dagli obiettivi iniziali. Il libro non parla tanto di quello che io desidero capiti, anche perché in un senso, appunto io sono un grande consumatore della tecnologia, mi piace pure, quindi sarebbe del tutto anacronistico dire ma proprio godo a vedere che cosa ci stiamo inventando, cioè ho una parte passione gigantesca per l'ingegno umano, ma il libro ha a che fare con quello che comunque inevitabilmente succederà e dunque con la nostra capacità di educarci all'inevitabile smettendo di far finta che non sia inevitabile. Per esempio, il fatto che l'all life sia considerata un'atmosfericità della vita umana entro il quale noi pensiamo, agiamo, riflettiamo, amiamo, eccetera, sapendo che ha gli anni contati per il suo peso ecologico, per la sua capacità di impatto e proprio materiale, pensate ai server che devono attraversare l'Antartide per poter essere raffreddati affinché noi possiamo mandarci i cuoricini della buonanotte, cioè noi di fatto massacriamo il pianeta per mandarci la buonanotte con paperino. Adesso non è una battuta, è ovvio che ci sono un sacco di gradazioni in questa cosa, è un'esagerazione, però è paradossale che tutt'oggi si parli di trasformazione ecologica in parallelo alla trasformazione digitale. È paradossale perché è la terza causa di inquinamento, per esempio, ed è assurdo che noi oggi dobbiamo cercare di capire come uscire dal problema del surriscaldamento climatico e poi una delle cause strutturali diventa quasi impossibile da mettere in discussione. Quindi ci sono una serie di contraddizioni e l'off life è di fatto la possibilità di reinvestire su tutto quello che in qualche modo il digitale ci ha tolto in vantaggio di qualche altra cosa ma che caratterizzava le possibilità strutturali di un certo tipo di trasformatività tipica della vita umana. È la ragione per cui l'ultima parola prima c'è l'attesa, la semplicità, l'isolamento, eccetera, come se fosse un meccanismo a catena che poi porta verso questa conseguenza. appunto l'incapacità di attendere, l'incapacità di stare da soli, eccetera, eccetera. È evidente, questo è un'acri... nel senso non... Io non credo che i filosofi parli... Mai questo secondo me è successo tra l'altro, neanche con i filosofi greci. Cioè io non credo che i filosofi parlino di come sono, parlano di come vorrebbero essere tipicamente. e c'è un famoso titolo di Nietzsche, no? Come si diventa ciò che si è, che è un modo un po' raffinato per dire che tu parli sempre di ciò verso cui vuoi tendere, quasi mai di ciò verso cui sei, no? Certo, l'idea che uno possa praticare ciò che teorizza è meravigliosa, però parliamoci chiaramente, esattamente come non è venuto solo a sentirti intriennale, ora che questa è una battuta, però il discorso è sei costretto, cioè la dico apposta in modo sporco, uno può essere pacifista eppure essere a favore di mandare le armi all'Ucraina in questo momento, no? Faccio apposta questo esempio perché è una delle cause che più ti preoccupa in questo momento, eppure resti pacifista anche se pensi che in questo momento bisogna urmare l'Ucraina e quindi uno dice ma cazzo ma come sei pacifista e poi mandi i cannoni all'Ucraina, non si fa questa cosa, no? Cioè uno può essere dubbioso secondo me del digitale eppure rendersi conto che questo è lo strumento che abbiamo in questo momento per comunicare, dirci le cose, eccetera, e quindi questo però non significa che cioè nel senso io non credo che Calvino parlasse adesso facciamo stare questo esempio, Calvino parlasse la leggerezza e poi fosse uno che non avesse una profonda pesantezza che lo guidasse nella sua vita cioè sono sempre come dire operazioni a tendere quelle che si fanno questo è uno strano libro di filosofia perché non è un libro di filosofia tecnicamente no? è un libro di teoria della cultura contemporanea fatta a volata d'uccello diciamo così non entra mai dentro la profondità delle cose che dice ma come diceva Gianluigi anche rispetto all'esempio di Umberto Eco è un attraversamento una passeggiata e ogni singola passeggiata potrebbe essere approfondita cioè si potrebbe fare un libro sull'attesa un libro sull'isolamento un libro sull'ecologia qui era più un ci rendiamo conto che la maggior parte delle tecnologie io tecnologia lo uso in un modo molto tecnico no? cioè non è una tecnica non è il modo attraverso cui arrivate da un punto A a un punto B che è una tecnica no? il modo attraverso cui una scimmia con un bastone accappa a qualcosa una tecnologia è il sistema per mezzo del quale attraverso il quale certi tipi di forme linguistiche di regole regolamenti diventano possibili e che hanno bisogni desideri no? la tecnologia è un'altra cosa per intenderci ok? è un sistema che cambia tutto è la creazione di un mondo è la creazione di un mondo e infatti proprio di questo curiosamente proprio l'altro giorno mi diceva una persona che lavora nel marketing a alto livello del marketing nella moda appunto e mi diceva ma alla fine perché io sto facendo questa rivista cartacea io ho portato un nuovo numero e lui mi dice sai cos'è la cosa bella è che noi abbiamo usiamo tutte queste cose digitali per poter arrivare a permetterci di ritornare di avere il tempo di spegnerle il lusso di spegnerle e dedicarci per un'ora cioè quello è il momento più tra i momenti migliori della mia giornata è quando spengo tutto e mi dedico al mondo come era una persona che più o meno è la mia età perché sono più giovane il mondo come era negli anni 90 diciamo insomma che abbiamo conosciuto per una breve fase diciamo in cui non c'era questo senso di diciamo come dire di impulsi di attesa e qua appunto mi leggo di anticipazione attesa desiderio di di sapere appunto tu fai l'esempio ovviamente della spunta di Whatsapp perché è molto interessante è un esempio lampante ecco uno dei pregi di questo libro è che è la capacità di fare degli esempi appunto che sono questi sì molto concreti anche diciamo una delle parole è semplicità c'è una certa semplicità anche in questo semplicità in senso positivo infatti a ritroso andrei parlando di attesa anche perché tu parli di attesa ma poi parli di anticipazione che sono due concetti ovviamente diversi anche se ovviamente legati vorrei che ce ne parlassi mi ha fatto venire in mente il tuo saggio perché poi sono dei piccoli saggi tra l'altro sono legati uno all'altro in realtà cioè qui non so comunque sono mi ha fatto venire in mente una bellissima opera di un artista bravissimo artista Henri Sala albanese francese in cui un'opera veramente geniale straordinaria secondo me e tra l'altro è stato uno dei momenti in cui mi sono avvicinato all'arte contemporanea l'avevo vista tanti tanti anni fa ed è la ritelecronaca è stata ridoppiata la telecronaca di una partita di calcio tra Argentina e Francia Argentina e Italia adesso non ricordo la partita dei mondiali in cui il telecronista che a questo punto era un attore che lui ha istruito diceva tutte le volte che passava qualcuno diceva ci anticipava di mezzo secondo quello che stava per succedere per cui si anziché dire ha passato la palla sta per passare la palla e praticamente c'è un effetto molto curioso e straniante ma anche poetico di uno sfarfallamento tra il desiderio in cui c'è qualcosa l'anticipazione di questa cosa e tra l'altro e curiosamente ti toglie ogni forma d'ansia perché stai nel momento però nel contempo sai subito cosa succede e quello io l'ho trovato una cosa per essere una persona molto ansiosa una forma di felicità e ho pensato proprio a quest'opera di Henry Sala quando ho letto i tuoi ragionamenti che sono affini a questo tipo di sentimento perché in realtà c'è un tema fondamentale che è proprio essere felici il motivo per cui mi sono staccato da Instagram è proprio perché non ce la facevo più a vivere sotto questa forma in cui vedi soprattutto c'è una cosa particolare che sono i scroll cioè di vedere i video di Berlusconi di vent'anni fa che ritornano i meme le cose anche tutte queste cose qua ovviamente sono divertenti entri in una dimensione in cui non ne puoi più fare a meno e vivi in una sorta di stato depressivo dopo un po' un pochino perché disprezzi quello che vedi un pochino perché quello che vedi è troppo troppo bello macchine troppo belle situazioni troppo belle tutte finte ovviamente ma adesso non voglio fare del moralismo comunque allora questo tornando al tema dell'anticipazione mi piacerebbe che tu parlassi di questa possibile felicità perché ogni tanto nel libro parli della possibilità della felicità per esempio dici che tua figlia è la felicità e questo lo capisco sì e la mi viene in mente che i veri appassionati di calcio una volta registravano le partite in VHS e poi le guardavano sapendo esattamente com'era andata tra l'altro con la stessa identica emozione sapevano già quando Van Bast insegnava però avevano quel momento di impeto pur sapendo già che poi quello che si crea quello che succede negli scroll adesso non so se avete mai guardato gli europei e mondiali con la ovvia differita tra una casa e l'altra che è una delle cose più terribili perché c'è già uno che ha bestemmiato e voi siete ancora lì che state sperando in qualcosa ma quella bestemmia vi ha già fatto capire diciamo che o ha fatto palo o è andata male perché il libro si chiama velocità di fuga per una ragione la velocità di fuga è un concetto abbastanza complesso dell'astronomia che è spiegato in modo iper semplice anche perché non saprei fare di più l'ho spiegato una volta l'ho spiegato davanti a Ersilia Vaudo e mi ha detto smettila che è la direttrice la vice direttrice dell'ESA è la velocità a cui un corpo deve correre per fuoriuscire dall'atmosfera di un pianeta senza essere riassorbito da una delle quattro forze fondamentali cioè dalla gravità che lo prende e lo ributta a terra la sfida è capire a quale x più n diciamo così si innesca la velocità tale per cui si può attuare la fuga come quella che sta facendo la signora cioè a quale a quale velocità si può che è lenta oggettivamente come come velocità come velocità di fuga visto l'ambiente in cui siamo allora la la mia idea è che il modo di raccontare la contemporaneità è essi fuggono cioè noi siamo costantemente in fuga da qualcosa questa cosa può essere l'epidemia la crisi climatica il peso del digitale sulle nostre vite l'impossibilità di stare con tua figlia o quello che è ma non sappiamo mai qual è questa velocità a cui dobbiamo correre spesso veniamo riassorbiti dall'epidemia dalla crisi climatica come se fossimo dei corpi che cercano di scappare da questa bolla e poi rientriamo costantemente all'interno di questa stessa bolla e quindi le sei parole sono degli antidoti visti dall'alto infatti si inizia sempre con una citazione che viene da un astronauta della NASA eccetera come se si guardasse proprio il tipico stile medievale per intenderci in cui si diceva la filosofia va fatta da una prospettiva aerea di modo che si possa guardare dall'alto quello che sta succedendo sono sei antidoti che dovrebbero dirci innanzitutto che la fuga è fine a se stessa e poi darci una possibilità di capire qual è la velocità a cui dobbiamo correre che spesso è più lenta di quella che ci eravamo dati l'attesa e le anticipazioni sono concatenate tra loro e sono l'idea che come già vi anticipavo prima la maggior parte delle grandi modifiche tecnologiche degli ultimi vent'anni apparentemente hanno creato una trasformazione antropologica in realtà hanno creato una trasformazione di specie quasi biologica la nostra incapacità di attendere di orientarci di avere memoria eccetera sono andate ad agire su quelli che erano i predicati che anche Darwin utilizzava per descrivere che cosa fosse Homo sapiens nessuno di noi riesce più a orientarsi in una città se non a Google Maps eppure la capacità di orientarsi è strutturale alla vita umana perché non significa soltanto orientarsi in uno spazio ma per esempio significa perdersi e perdersi è esattamente la condizione di possibilità della scoperta se tu non ti puoi perdere non puoi scoprire ora la maggior parte di noi probabilmente hanno imparato a orientarsi a Torino in un momento in cui non c'erano i navigatori satellitari a parte che è molto difficile perdersi a Torino però tutto può tutto può succedere no? e questo è molto più difficile a Milano per esempio a Milano ci si perde con una facilità incredibile perché ti sembra una parallela in realtà è una secante e ti porta da tutt'altro lato e la possibilità di smarrirsi anche la possibilità di trovare cose che non sapevi di cercare nel momento in cui sei partito all'interno di un determinato percorso e l'attesa è la condizione attraverso la quale noi distribuiamo uno stimolo nel reale ma non sappiamo esattamente né come né quando né perché il risultato ci verrà a trovare per intenderci quindi è anche la condizione di possibilità delle rivoluzioni dei gesti radicali della possibilità di sbagliare che poi diventa la possibilità di cercare eccetera ma sono concatenate tra loro perché che valore avrebbe la filosofia se fossimo costretti soltanto ad aspettare sarebbe come dire fine a se stessa e allora l'anticipazione è un po' il modo che io utilizzo per provare a risolvere un conflitto annoso che io non risolvo davvero perché questo non è un libro di filosofia quindi ho dei suggerimenti un conflitto complicato tra due grandi categorie morali che oggi sono nel dibattito filosofico diciamo così la categoria di chi dice o hai un impatto o non ha senso fare niente questa cosa ha proprio un termine tecnico in quella che viene chiamata etica in filosofia si chiama effective altruism cioè l'idea che tu solo se hai un impatto che supera il 50% più uno allora ha senso fare qualcosa è un tema molto serio della contemporaneità non è una roba così un passante ed è l'idea che è un recupero di quella che una volta si chiamava etica utilitarista cioè è l'idea che o tu sei in grado di spostare l'asse di qualcosa oppure che lo fai a fare esempio un esempio che mi è caro smetti di mangiare carne se sei il 50% più uno che fa questa cosa se no la carne che non mangi tu la mangerà Gianluigi Elena Francesco e tanto vale che la mangi anche tu perché non hai impattato su quello che volevi fare e dall'altro lato invece dei movimenti che sono quelli un po' old school diciamo così per cui se non c'è rivoluzione allora niente ok quindi che guardano non all'impatto ma proprio alla cosmogonia generale attraverso il quale andrebbe riformato un sistema che però non sono di impatto e qualsiasi cosa fai non è mai coerente abbastanza con chi di voi ha frequentato in gioventù diciamo così un qualsiasi dibattito in un centro sociale sa che questo è l'asse dentro il quale si consumavano perché ormai sono scomparsi praticamente quel genere di discussione tutto era perfetto nel momento in cui lo raccontavi poi qualsiasi cosa facevi non era abbastanza rispetto al fatto che il capitalismo va abbattuto e tu dici ma da dove comincio cioè ci sarà qualcosa che posso fare e non puoi fare niente ovviamente perché sei dentro quella cornice allora siccome io propongo una filosofia che si distende sull'arte che non è così comune perché in questo momento la filosofia tipicamente si distende sulla scienza o quando non si distende sulla logica e di fatto spesso si limita a sistemare oggetti del dibattito scientifico mentre io la provo a distendere da tutt'altro lato cercando di raccontare il valore del performativo del simbolico che è una cosa che gli artisti o i curatori possono capire immediatamente cioè di che cosa significa portare nell'intensità della rappresentazione qualcosa che è nell'impossibilità normativa cioè che cosa significa che poi è anche una migliore definizione di arte secondo me che si può dare cioè quando un qualcosa del mondo che apparentemente non è rilevante lo diventa improvvisamente perché c'è un collasso tra due piani di reale e ne spunta un terzo e quel terzo noi lo chiamiamo arte ma poi non è che sappiamo mai bene come definirlo questo infatti c'è gente che tuttora prova a definire che cosa è l'arte e non capisco come faccia e anche perché completamente senza senso e questa idea del performativo e del simbolico è quello che guida l'anticipazione cioè ok magari non è ancora efficace cioè di impatto magari però portare nel qui e ora il mondo che noi vorremmo poter realizzare attraverso un esempio che è esattamente la teoria della performance e l'arte contemporanea ma orientata da una prospettiva filosofica cioè faccio sempre questo che poi l'esempio che hai fatto tu dici sono staccato da Instagram non è che Instagram se n'è fottuto il fatto che tu ti sei staccato non ha avuto credo alcun tipo di dolore nel momento in cui magari se si stacca la Ferragni un minimo spiace però a Instagram però per tutti gli altri come dire ce ne faremo una ragione cioè non abbiamo un impatto di nessun tipo direi né io né te né credo tanti altri in questa stanza però lo fai per mostrare qualcosa ora questa cosa io questa cosa a che fare con le diete che facciamo a che fare con per esempio non è per nulla effective che è un termine abbastanza intraducibile in italiano perché significa di impatto ma un po' di più cioè che impatto che funziona ok cioè non è per nulla di impatto che funziona a non consumare plastica cioè quella che non consuma Elena la consuma qualcun altro cioè non è ancora stato superato quello sbarramento tale per cui l'azione di Elena supererà chissà che cosa ed è così con un sacco di altre cose così però era così anche per tutti i movimenti etici e concettuali eccetera che oggi sono diventati d'impatto femminismo ha avuto un momento in cui fare un'azione femminista non contava nulla cioè non era d'impatto però è grazie a quella simbologia che poi cioè grazie alla possibilità di aver anticipato quell'azione cioè quando Angela Davis si è fatta arrestare faccio un esempio no non è che in quel momento lì aveva risolto il problema dell'afrofemminismo però è stato americano quindi pure in una società parecchio balorda e però è stato un simboleggiare che si poteva fare qualcosa che poi effettivamente è diventato l'impatto dopo ma è una sentinella quella roba lì no e questo secondo me è importante nel visto che questo è un libro per navigare diciamo così o per passeggiare la contemporaneità è importante che si capisca che molta della sfida che abbiamo oggi è simbolica è artifica della sfida che abbiamo oggi la sfida la sfida a Rai 3 l'altro giorno l'hanno presentato come velocità di fuca che poteva andare peggio giusto però ormai sarà sarà uno storpiarlo fino alla fine credo del destino di questo libro che sarà domani probabilmente però fino a domani e la l'arte oggi ha molto più valore politico di tante cose che pensiamo avere un valore politico si vede anche adesso ma dobbiamo andare a votare è fondamentale è importante tutto quello che vogliamo ma non è effective cioè questo è il punto cioè c'è qualcosa c'è un piano di realtà che è più ampio e più grande di come lo stiamo cercando di descrivere ed è a quello che in qualche modo secondo me dobbiamo dobbiamo tendere mi rendo conto che ho delle punte di idiosincrasia mentre parlo però non lo riesco a spiegare meglio il capitolo precedente a ritroso si chiama isolamento e si rifà a un altro libro che hai scritto che è quattro capanne che raccontava in realtà anche lì a metà tra l'architettura e la filosofia di quattro pensatori beh insomma diciamo tre pensatori e una specie di che andavano che si sono isolati in qualche modo che avevano anzi che si isolavano costruendo delle architetture o autocostruendo o abitando degli spazi diciamo nomi insomma definiti dell'architettura poi tra l'altro questo ha portato te anche a disegnare insieme a un gruppo di architetti una capanna eccetera ecco questa idea dell'isolamento non è una anche qui è un auspicio oppure secondo te è una tangenzia diciamo una forza tangenziale che tu semplicemente scopri nel libro ci sono questi consigli dati da un famoso astronauta che diventarono di moda quando quando ci siamo dovuti isolare in casa che erano i consigli che la NASA ha ufficializzato per sopravvivere all'isolamento che erano tipo fatti la barba ogni mattina pure se non hai niente da fare togli il pigiama e vestiti trovati qualcosa da fare datti una prassi datti una routine e noi ovviamente non eravamo pensate se fosse collassata internet durante il lockdown avremmo visto la gente piovere dalle finestre probabilmente come passatempo grazie a Gianluigi sono riuscito a far nascere mia figlia a Torino letteralmente grazie a Gianluigi nel senso che mi fece un favore enorme in un momento terribile perché era il 12 marzo del 2020 quindi vi posso lasciare immaginare che cosa sia stato il parto in quel momento e cioè in quel momento di tutti quanti ci siamo resi conto che proprio non eravamo attrezzati ad essere isolati non sapevamo neanche da dove da dove cominciare non avevamo non avevamo gli strumenti eppure c'è una letteratura enorme sulla ragione attraverso la quale per mezzo della quale molti intellettuali eccetera hanno deciso di passare alcuni periodi della loro vita isolati proprio per poter generare qualcosa ma questa parola isolamento è un modo lo vedrete se lo leggerete il libro pazienza vivrete uguali ma è un modo anche per riflettere su quanto poco il nostro sistema educativo culturale eccetera abbia investito sulla nostra capacità di autonomia autonomia a 360 gradi intendo dire che pratica anche pratica soprattutto pratica sul modello scolastico che ha completamente destituito l'idea del badare a se stessi o del saper riconoscere un fiore un fungo una pietra un sasso del sapersi costruire da solo qualcosa tu mi hai detto che non sapevi cucinare e hai imparato durante l'isolamento diciamo che ho imparato una parola grossa però diciamo che prima quando invitavi a prato facevi pomodori e finocchi crudi poi hai avuto un'evoluzione però tanti di noi comunque non ho invitato più nessuno non ho invitato più nessuno cioè molti di noi non sapevano fare un tubo diciamo ora la verità e diciamo le cose come le cose come stanno e e e questa è l'idea del dell'isolamento è sempre stata un'idea profondamente connessa alla creatività filosofica non solo alla creatività filosofica alla creatività in generale c'è il momento di raccolta no in cui ti rendi conto che che questa è una cosa tipica che dice Toro in Walden no cioè c'è quella famosa frase iper citata di questo libro che poi va dall'attimo fuggente andai nei boschi per non scoprire un punto di morte che non ero vissuto poi lì c'è un mascismo americano dell'ottocento no per vivere da Gagliardo Spartano falciare il raso te cioè lì poi iniziano queste minchiate del maschilismo americano di quegli anni ma fino alla parte iniziale no quello che lui ci sta dicendo è mi sono allontanato dalla società per capire profondamente quale potesse essere il mio ruolo all'interno della società cioè cosa io potessi davvero potessi aggiungere all'interno dell'atmosfera del sociale mentre noi abbiamo vissuto l'isolamento chiariamoci la condizione per cui siamo dovuti isolarci era davvero tragica ok però noi abbiamo vissuto l'isolamento come la più grande tragedia che ci potesse capitare ma questo poi non è stato molti di noi secondo me non ci sono mai sentiti paradossalmente così vivi come in quei giorni lì e questa contraddizione ancora abita a noi tutti dall'interno cioè il fatto che quello è stato anche uno dei primi grandi momenti per interrogarsi per capire per comprendere per fermarsi per rendersi conto del senso delle proprie esistenze il fatto che molti abbiano tuttora continuato a decidere di vivere lontano di stare in ma smart working di vivere in campagna di non cioè tutta questa complessità di cose che sono state messe in gioco a che fare anche col fatto che una delle condizioni necessarie della società contemporanea che stiamo abitando è disabituare a vivere da soli e disabituare a farcela con le proprie gambe questo ci deve essere secondo me chiaro in modo abbastanza esplicito perché meno sei autonomo più sei controllabile e il controllo qua senza tirare in mezzo Foucault eccetera che pure nell'ultima parte del libro ha un'importanza soprattutto nell'ultima lezione e nell'esergo finale che non so come si chiama l'esergo finale si chiamerà exergo non lo so però nella citazione finale cioè che è una famosa citazione che c'è nell'introduzione delle parole delle cose mi pare cioè lasciatemi libero almeno di scrivere una morale da stato civile eccetera e questa quella della carta d'identità quella della carta d'identità e questa la sorveglianza è possibile perché tanto più o meno facciamo tutte le stesse cose quindi non hai neanche il bisogno di essere osservato perché algoritmicamente lo sappiamo come funziona la vita di ognuno di noi dove andremo cosa faremo cosa mangeremo cosa mentre invece l'isolamento è anche quel momento in cui la follia e il genio si somigliano perché può succedere infatti quel libro lì che tu citavi sono effettivamente quattro fuori di testa ma che se non si fossero che sono Torò Casischi Le Corbusier e Bickstein ma se non si fossero Casischi e il terrorista una bomber che era quello un intellettuale ma non proprio anche se era professore di matematica a Berkeley a 26 anni non era uno scemo ma non è perché è ancora vivo è ancora vivo cioè il punto è che è lì perché il talento e il deficit sono la stessa cosa questa è cioè una cosa la chiamiamo orecchio assoluto e diventa talento un'altra forma di deficit la chiamiamo menomazione ma di fatto sono sempre delle cose che isolano rispetto alla collettività entro il quale quel quid in più si è trovato ed è solo nella condizione di isolamento lasciando stare che tu hai imparato a cucinare io ho imparato a cambiare i pannolini ma la è quel è quel momento secondo me infatti isolamento è una parola di passaggio alcune parole di questo libro sono strutture attesa anticipazione off life e altre sono uncini isolamento semplicità perché la semplicità è strutturale all'ecologia cioè è impossibile ecologia se non c'è semplicità e questo è quasi tautologico ma non troppo così come è impossibile anticipazione se non c'è isolamento perché hai bisogno un attimo di staccarti dal processo di copiatura che noi possiamo chiamare in lato positivo empatia in altro lato è assofazione abitudine per cui tecnicamente perché instagram è problematico no anche se è una risorsa e così altri altri strumenti come questo perché l'algoritmo ti dice cosa devi fare per poter continuare a fare e quindi si entra all'interno di un loop in cui è difficile capire qual è l'elemento di rottura in cui si aggiunga qualcosa di nuovo e noi stiamo vivendo questo momento qui che è un momento complesso e interessante contemporaneamente di rottura di rottura